cari spettatori siamo qui oggi per parlare dell'emozionante avventura di amici 23 dopo l'eliminazione di aile avvenuta nel pomeriggio di oggi il giovane talento ha deciso di condividere un messaggio con tutti noi intanto ci prepariamo per la seconda puntata del serale in programma per sabato 30 le anticipazioni suggeriscono la possibilità che nicolas lasci la scuola scatenando l'indignazione dei fan del programma sui social aile tornato a parlare dopo le polemiche ha condiviso le sue riflessioni e ringraziamenti rivelando di sentirsi ancora legato al programma e di aver tratto insegnamenti preziosi da questa esperienza il percorso di aile ad amici 23 è stato intenso e formativo e il suo messaggio riflette il suo impegno e la sua gratitudine per questa opportunità non vediamo l'ora di seguire il suo futuro artistico e di godere della sua musica grazie per l'attenzione e continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su amici 23